Caprizio Castori, tecnico del Carpi, adesso è il momento dei premi e dei riconoscimenti, siamo qui all'Italian Sport Awards, però tra un mese circa si ricomincia pronto, carico per la nuova grande avventura in Serie A. Sì, adesso è il momento di raccogliere i premi e fare un po' di vacanza, poi ci si prepara un mese e passa subito a questa nuova avventura che non vediamo l'ora di iniziare e quindi aspettiamo con entusiasmo l'inizio della nuova stagione. È un momento in cui si parla molto di panchine in Serie A, il Carpi la sua panchina ce l'ha al sicuro, c'è stato il prolungamento del contratto fino al 2016? Sì, abbiamo allungato il contratto per questa stagione e sono molto contento di ricominciare con una società e un ambiente che conosco bene, una squadra che ho allenato e mi hanno dato grosse soddisfazioni. Noi abbiamo creato un gruppo unito, valido e soprattutto di volontà e di impegno, che è la cosa che più conta, e di serietà nel lavoro. Gavazzi può arrivare, centrocampista? Guarda, adesso i nomi non sta a me farli perché comunque c'è il direttore che fa il mercato, fa la campagna acquisti, poi se ne fanno tanti di nomi, è inutile stare a dire questo sicuro, no. C'è il direttore che pensa a fare il mercato, abbiamo tracciato le linee guida che devono essere quelle della stagione passata, cioè nessuna prima donna, tutti i giocatori che hanno voglia di lavorare, che si mettono a disposizione della squadra, che è quello che più conta della squadra, non è certo il singolo, quindi devono essere ragazzi giovani o perlomeno che hanno questa volontà di fare un campionato importante come quello di Serie A, col massimo impegno e senza nessun grillo per la testa. Un paio di mesi dall'inizio del campionato, un po' meno, le sensazioni sono buone, come se lo immagina questo campionato di Serie A? Noi vogliamo riconfermare più o meno, vogliamo mantenere più o meno lo spirito della stagione che è stato vincente per noi, puntare sui giovani, puntare su una squadra che crea intensità, che gioca a un calcio diciamo verticale, è stata per noi una scelta vincente, la vogliamo mantenere, non ci discosteremo da questo trend qui, quindi poi il fatto che si fa in Serie A c'è ancora una motivazione forte come quello che dicevo prima, sarà per noi una sfida pazzesca, però abbiamo un entusiasmo addosso, non vediamo l'ora a tutti di poterla cominciare questa avventura. Finale play-off tra Bologna e Pescara, chi è favorito? Favorito in una finale non ce n'è mai, perché sono due squadre che quando si gioca un campionato magari vuol dire che sono forti, che sono arrivati al momento cruciale della stagione, che hanno tutte e due le risorse per poter centrare l'obiettivo, è normale che il cammino del Pescara ultimo lascia pensare che comunque Pescara sia molto in forma, perché tre vittorie e un pareggio sono un elemento indicatore abbastanza importante, il Bologna ha dalla sua il vantaggio dei due risultati su tre, però mi sento dire che Pescara è una squadra forte e il Bologna avrà su dare per poter andare in Serie A.